Siamo arrivati allo stesso giorno, Francesco mi ha mandato un messaggio, aveva visto che ero appena arrivata a Palermo, nella mia splendida città, e mi aveva chiesto se potevo partecipare a questo evento. A me fa sempre piacere quando si promuove il calcio giovanile, poi so come lavora Francesco, è una persona splendida, è una persona che sa come lavorare, è molto organizzata. Vengo dalla Francia, è stato un mondiale splendido, siamo rientrate in Italia con tantissime persone che ci hanno dimostrato il loro affetto e non ci aspettavamo questo entusiasmo da parte di tutti. Palermo è la mia città, siamo un popolo accogliente, siamo un popolo molto umano e molto allegro e molto ospitale, quindi che dire, io dico sempre che chi vuole conoscere Palermo deve venirla a visitare e quando viene a visitarla gli rimane sempre nel cuore. Grazie a tutti.